Come si chiama il nano che si mette da solo in quarantena? Non lo dire! Si chiama Misolo! Ora ti picchio! Non puoi, non sai nuotare! Ah sì, allora io ti frego! Non saprò nuotare, ma so usare la testa! Ecco qua! Uno, due, uno, due, uno, due! Movimento di gambe, movimento di gambe, guarda che ti prendo! Ecco lì! T'ho fregato, presa! Sono troppo forte! Adesso sei finita! Grazie a tutti!